Ciao amiche e ciao amici, come riconoscere che gli manchi dalla comunicazione non verbale? Esistono dei segnali di comunicazione non verbale che ti possono far capire che tu manchi a una persona ovviamente devi farlo quando la incontri, cioè ci deve essere un momento in cui tu incontri questa persona osservi la sua comunicazione non verbale per capire che in realtà manchi a questa persona e che quindi ti vorrebbe di più, che sei importante per questa persona Quali sono questi segnali di comunicazione non verbale? Ve ne sono di diverso tipo Allora, un primo tipo è che quando ti vede, diciamo così, ti incontra tende frequentemente a portare le mani in questa zona questa zona che sarebbe poi rappresenterebbe il chakra del cuore quindi quando ti parla tende istintivamente a toccarsi in questa zona prevalentemente utilizzando la sua mano sinistra la mano sinistra è quella rivolta agli altri e quindi ogni volta che io uso la mano sinistra è come se facesse un gesto etero attributivo è qualcosa che riguarda un'altra persona in questo caso se io ti guardo con gli occhi e utilizzando la mano sinistra la porto qua al cuore, al chakra del cuore fondamentalmente significa che mi manchi e ti vorrei portare al mio cuore questo è una, diciamo, è un segnale molto forte di comunicazione non verbale è necessario un contatto oculare e la persona lo fa istintivamente quando ti vede parla o anche senza parlare tende a portarsi la mano la mano in questa zona, non deve tenerla un quarto d'ora e restare qua però spesso noterai che mentre ti guarda tende a fare questo movimento un'altra cosa che fanno le persone, diciamo, a livello non verbale quando una persona manca o comunque hanno bisogno di questa persona tendono a effettuare i cosiddetti puntamenti sono delle cose inconsapevoli per cui quando parlano, ad esempio tu devi portarla su delle situazioni, su dei discorsi magari loro parlano di una relazione coinvolgente e quindi, non so, potrebbero dire una mia amica è proprio coinvolta con una persona e noterai che quando parlano di coinvolta con una persona indicano te ti stanno puntando praticamente cioè fanno un gesto della mano che va da loro verso di te e non lo fanno casualmente ma lo fanno proprio quando parlano di una situazione di coinvolgimento emotivo di innamoramento, di coinvolgimento affettivo quindi tu devi proporre, diciamo, l'argomento e notare come lo rispondono a livello non verbale ecco, questi due sono due segnali importanti bene, sono altri che si possono riconoscere ma questi due sono già molto utili bene, per questo video è tutto se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta inoltre, se questo video ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici su Whatsapp, Skype, Facebook, Twitter e metti un like, un mi piace qua sotto mi raccomando ciao